Un'area che ormai da tanti anni è al centro di dibattiti, di botta e risposta, l'ultimo in ordine di tempo, quello fra Fratelli d'Italia, in Consiglio Comunale e la proprietà. Cosa ne sarà dell'area ex lebole? Perché serve una messa in sicurezza, i cittadini lo chiedono, ma non solo i cittadini. È un'area privata che ha evidentemente un interesse pubblico, sia per la sua ampiezza, sia per la sua strategicità. La sottolineatura che ha fatto il consigliere Palazzini, io credo che sia stata anche necessaria per comunque aprire un dibattito più puntuale rispetto al primo tema, quello della sicurezza. Il Sindaco Ghinelli sta seguendo in prima persona invece, oltre che il tema della sicurezza, anche quello dello sviluppo di quest'area. Io mi auguro che si possa pensare da qui a non molto tempo di vedere delle prospettive non solo nuove, ma soprattutto concrete. Il consigliere è stato chiaro, se la proprietà non metterà in sicurezza l'area, lo farà il Comune a spese della proprietà privata. Un caso simile al Teatro Impero di Montevarchi, è successo una cosa molto simile sul tetto che venne poi addebitato al privato. È possibile per lei questa opzione? Diciamo che l'ultima spiaggia, è evidente che se non ci sarà la disponibilità a un percorso se ne valuterà un altro.